Buongiorno, gentili telespettatori, benvenuti al nostro consueto appuntamento sportivo che apriamo con il calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta la finalissima del torneo L'Ana Ribellezza che si disputerà domani allo stadio Diana di Osimo con inizio alle 17 che trasmetteremo in diretta. I Viola hanno battuto 3-0 la Lazio con tutte le reti nel secondo tempo, messa a segno da Presta, Padilla e Vigiani. I Lombardi di Mister Bossi hanno avuto la meglio sul Bologna e rimonta per 2-1 con i gol decisivi di Castiello e Cassa. Oggi pomeriggio, lo ricordiamo alle 17.30, dallo stadio Ferranti di Porto Sant'Elpidio, diretta dell'amichevole di Russo tra Ascoli e Recanatese, remake del match del 30 luglio scorso. Un'occasione tra l'altro per verificare la preparazione di entrambe le squadre, soprattutto dei bianconeri, in vista del probabilissimo inizio del campionato di Serie B tra due settimane. Abbiamo già detto nell'edizione di ieri sera del nostro notiziario dell'incontro del tutto interlocutorio a Fano tra il sindaco Massimo Serie e Benedetto Mancini, l'imprenditore romano impredicato di acquistare il club, ad aspettarlo davanti al municipio anche una ventina di tifosi che non hanno mancato di far sentire il loro parere. Dal ritiro di frontone, notizie poco rassicuranti, ha lasciato il gruppo anche il difensore argentino Damian Salto, che si è accasato alla Pistoiese. Le ultime invece dal mercato dei dilettanti nel servizio di Andrea Busiello. Sono ore e giorni caldi per le trattative di mercato in vista del prossimo torneo. Ci concentriamo sull'eccellenza, dove negli ultimi giorni ci sono stati diversi annunci importanti per vari club. Partiamo dalla San Giustese, che ha ufficializzato l'arrivo di Jacopo Marini e Daniele Salvatelli, due ragazzi con discrete esperienze in categorie superiori, Monte Giorgio e Tolentino nell'ultima stagione, e pronti a dare aiuto al club in questa annata, prossima alla partenza. Il colpo lo firma il Monte Giorgio, con un nuovo attaccante, ufficiale l'innesto del classe 2000 Giordano Bardeggia, riminese nell'ultima stagione tra Cattolica e Progresso, eccellenza Emilia, con caterve di reti, circa 20 tra campionato e Coppa. Bardeggia è già arrivato al Tamburrini e è un ritorno nelle marche per lui, che aveva indossato la maglia della San Giustese in D, a cavallo del Covid. Chi invece vorrebbe farlo il colpaccio è il Monturano, che mette nel mirino l'esperto centrocampista Loviso, un passato in A e nella scorsa stagione tra Maceratese e San Giustese. Il club giallo-blu ha ufficializzato tre arrivi nelle ultime ore. Si tratta del terzino Fiorito e degli attaccanti Nacciarriti e Tracanna. Altra squadra che si sta continuando a rinforzare è il Castelfidardo, che ha tesserato nelle ultime ore il centrocampista Alessio Cannoni, elemento di qualità ed esperienza proveniente da categorie superiori. Cresciuto nel Siena ha militato in club di Lega Pro e Serie D, collezionando diversi campionati di spessore con Novara, Pontedera, Lucchese, Cattolica e Maceratese tra le altre. Nell'ultima annata sportiva ha militato nel Cittadella Vismodena in eccellenza, confermandosi elemento di assoluto spessore. Ricordo domenica nel canonico orario delle 21, l'ultimo appuntamento con le Marche nel pallone estate, ospiti nei nostri studi Maurizio Zandegu, Francesco Baldarelli, Luciano Bonvecchi e Marco Pazzarelli. È stata presentata ieri sera la nuova campagna Abbonamenti della Carpegna, Prosciutto, Basket, Pesaro, con lo slogan Il Sesto Uomo siete voi. Tra le novità annunciate la curva verrà intitolata allo storico capotifoso Marco Piccoli, mentre la fanzone è dedicata ad Alfonso Ford. La società ha cercato di andare incontro ai propri tifosi, scontenendo i prezzi, anzi prevedendo una riduzione di circa il 10%, con la possibilità di rateizzare il costo della tessera per chi possiede un conto corrente presso un istituto di credito locale. Confermate anche le promozioni Family e Porto un Amico. Prelazione al Via il 28 agosto per i vecchi abbonati, poi l'8 settembre, con la possibilità poi dall'11 della vendita libera per tutti i posti. Ricordiamo che il campionato di Serie A avrà inizio il 1 ottobre con la trasferta dei pesaresi sul campo della Germani-Brescia e sordio casalingo contro l'Umana Reier-Venezia. È tutto anche per la nostra pagina sportiva. Grazie per la cortesa attenzione e appuntamento a questa sera.